Elena quel giorno stava pulendo la stanza della figlia. Sembrava una giornata come le altre dopo il risveglio, ma qualcosa l'avrebbe scioccata. La mattina si era svegliata con il giorno libero. Il marito Edoardo era andato via prima per entrare a lavoro con un certo anticipo in modo da passare l'weekend un po' più libero. Infatti solitamente faceva anche il sabato lavorativo, ma stavolta voleva essere a casa con la figlia Sara per poter passare del tempo al parco come le aveva promesso. Sara invece si era svegliata un po' più tardi grazie alla madre che l'aveva aiutata a vestirsi e mangiare per andare a scuola. Insomma Elena era rimasta sola quella mattina in una casa silenziosa e molto vuota, senza le persone che più amava il mondo. Così decise di rimboccarsi le maniche e fare una cosa, cioè pulire. Solitamente faceva tutto nel fine settimana, ma quel giorno aveva fin troppo tempo libero visto che la sua azienda aveva fatto una chiusura straordinaria. Cominciò dalla cucina, il luogo più sporco e difficile da gestire. Di solito era Edoardo a pulirla, ma quel giorno decise che l'avrebbe fatto lei. Così dopo ben un'ora riuscì a finire come si deve e farla luccicare. Dopodiché andò al piano superiore dove c'erano le due stanze da letto. Quella della figlia era un vero disastro perché Sara aveva dimenticato di mettere a posto ieri prima di andare a letto. Lei le insegnava il valore dell'ordine di quanto potesse fare bene alla mente e per questo aveva detto a Sara di mettere a posto almeno un minimo ogni sera prima di dormire. Ma quella sera l'aveva dimenticato e anzi aveva anche fatto molto casino tirando alcuni suoi giocattoli. Li aveva tirati perché era stata sgridata per aver commesso un errore. Ma poi pentita della cosa aveva cominciato a piangere e chiedere scusa. Non era facile la vita da genitori, pensò Elena ripensando a quelle cose. Prima quindi ordinò la stanza da letto sua e di suo marito. Poi finalmente passò a quella di sua figlia. Ci volle moltissimo per pulire e infine arrivò all'armadio. Ma qui una sorpresa spaventosa. All'improvviso dopo aver aperto l'anta caddero tantissime palline marroni per terra. Lei urlò pensando fossero insetti ma non si aveva paura di toccarli. Prese velocemente la paletta e la scopa e cominciò a liberarsene ma dopo aver fatto una foto. Perché erano stranissimi. E ne stavano venendo fuori altri da sotto l'armadio di sua figlia. Cosa diavolo erano? Forse feci di insetti o insetti morti. Era disgustato dalla vista ma controllò molto bene tutta la stanza per essere sicura che sua figlia non avesse problemi a ritorno. Dopodiché finalmente concluse ma ancora dubbiosa sul da farsi. Guardando l'orario capì però che era il momento di andare. Sara stava aspettando di essere riportata a casa. Andò a prenderla a scuola e durante il tragitto era ancora in pensiero. E decise di chiedere direttamente a Sara in macchina. Tesoro c'erano questi nella tua stanza? Mi sai dire cosa sono? Le mostrò il cellulare. Lei un po' confusa rispose di no che non ne sapeva nulla. Il mistero quindi non era tanto semplice da risolvere. Va bene fammi sapere se tornano nella tua stanza ok? Non dovrebbero essere pericolosi però non mi sembrava ecco. Tu alla minima cosa facci sapere se necessario urla ok? e anche se ti senti in pericolo per qualcosa. Ritornò a casa anche Edoardo e mostrò le foto anche a lui. Un po' perplesso e spaventato allo stesso modo suggerì subito di chiamare la disinfestazione. Ma Elena pensò non fosse ancora il caso perché non c'erano in altre parti della casa. Lei aveva controllato molto bene perciò concordarono per aspettare. Lei decise di chiedere al mondo di internet. Pensò che almeno un utente avesse visto una cosa del genere. Così scrisse il post descrivendo tutto attentamente e mettendo la foto. Qui molti utenti risposero ma per lo più perché disgustati dalla cosa. Ci volle un attimo visto che la sua immagine era andata virale velocemente ma ancora la risposta non arrivava. La giornata seguente la passarono al parco e si divertirono molto come Edoardo aveva promesso. Era rimasto con Sara e la famiglia ma Elena era distratta e ancora preoccupata per quelle cose che aveva trovato. Si consultò il giorno seguente anche con i vicini di casa e con sua sorella ma nessuno seppe darle una risposta. Nella settimana a venire trovò altre di quelle palline ma poche sparse sotto il letto di Sara. Disperata quindi pensò fosse il momento di chiamare la disinfestazione come aveva suggerito suo marito finché però all'improvviso non ricevette un messaggio su Facebook in privato. Il messaggio le diceva di provare a vedere una cosa. Seguendo il consiglio andò direttamente nella stanza della figlia e qui notò che in effetti poteva esserci qualcosa. Trovata forse la soluzione aspettò sua figlia che tornasse insieme ad Edoardo da un compleanno. Quando arrivò tutta contenta chiamò Sara. Amore dimmi dov'è il tuo Leo? Nella tua stanza non l'ho trovato. Lei abbassò lo sguardo. Ecco mamma l'ho rotto quando mi sono messa a piangere l'altra volta e mi fai vedere dove l'hai nascosto visto che non c'era nessun cestino in casa. Sara così la portò nella sua stanza e aprì l'armadio. Qui il mistero si risolse una volta per tutte. E come mi ha scritto quella persona quindi? Guardò Edoardo e gli raccontò tutto. Una persona le aveva scritto dicendo che aveva avuto lo stesso problema e aveva trovato le stesse cose ma nella sua lavatrice. Dopo un'attenta ricerca quella persona aveva visto che erano solo palline marroni presenti dentro un peluche particolare che aveva comprato e che non era più in vendita a causa proprio del fatto che contenesse oggetti dannosi per i bambini all'interno. Sara per la rabbia aveva rotto il peluche lanciandolo e probabilmente erano uscite quelle palline. Alla madre non aveva detto niente delle palline perché aveva paura di essere sgridata. Il mistero per fortuna era stato risolto semplicemente. E ancora una volta il mondo di internet aveva dato una grande mano a una madre in difficoltà.